Buonasera amici, Antonio Centocente, il tipo napoletano, serve in ottima forma con le mie rizze fitte. Guardate una bella rizzer, provo le crocchette, che voi già conoscete, solo cioccolata, solo cioccolata, ci siamo quasi. Ecco qua, facciamo vedere anche l'altra pizza, che è pronta, e il cioccolata, è sempre lui. Eccola qua, guardate qua, guardate qua, guardate qua, guardate qua, guardate qua. Eccola qua, vedi qua, c'è un'altra pizza, guardate qui. Questa che salsa abbiamo detto? Niente. Ah, niente? E' crema, è la crema, la crema dei cremetti. Ecco qua, vedete? Kebab, provola e panzarotto, vai ragazzi. Cioccolatino, vedete? Tutto crema, guardate, anche la patata, vedete, crema. Poi saranno anche queste fittele farcite con il salame, guardate qua, salame piccante, senza un filo d'olio, guardate qua. Vedete? Un bacione, buona serata, ci vediamo domani, giovedì. Grazie.